C'è il break di Caccia! Al tredicesimo! Come a terra una settimana fa! Ancora Caccia, terzo gol consecutivo! Il sedicesimo di questo suo campionato! Intanto Orsolini, ha la palla sulla sinistra per il raddoppio! La doppia pinta, finale, mette in mezzo! Ancora per Caccia, con il destro! E la doppio di Damiano Caccia! Sesto doppio del stagione! Il love di Ronaldo sventa la casa dell'aschile e Pachilla colla! Il gol che riapre la partita! Minuto 33 con il gol Amiglis! Pallone per Caccia! Il controllo di Caccia! E cerca di affinare Terracciano! Caccia ha avuto l'occasione per la tripleta! Cerca di seguire il compagno! Altobeli! Il destro! E alta la palla di Altobeli! Occasione non camorosa! Di più! Pilano è spinta e poi in Donnarumma! Il pareggio ma c'è il fuorigioco di Donnarumma! Qui sembra buono però forse Milano che ci ottiene in gioco Donnarumma! Pallone dentro! Il pareggio! Ha trovato Bagadour! Il gol! Il secondo in campionato! Come a Cesena! All'ultimo tuffo! Finisce 2-2 la doppietta di Caccia per Lascoli! I gol di Economidis per la Salernità!